Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ad uno Jungans. Jungans Meister Chronoscope, questo è il nome completo dell'orologino che andremo a visionare oggi e si tratta di un cronografo. Nella famiglia Meister, io della famiglia Meister ho posseduto il solo tempo braccialato, era veramente un bello orologio, me lo sono goduto per un bel periodo, poi come spesso capita si cede per passare ad altro, il bello è anche testare vari orologi, provarne il più possibile, possederne il più possibile, la vita che ci è data ha una durata limitata, ha un parametro finito, quindi entro quella fine bisogna fare tutte le cose possibili, immaginabili, quindi per me provare gli orologi è il clou, diciamo. Meister Chronoscope, come ho detto è un cronografo che si differenzia leggermente dalla linea Max Bill Chronoscope, poi vedremo anche nel dettaglio quali sono le varie differenze, ma non è una novità, non è una novità, è già un bel po' che è sul mercato, mi è sempre piaciuto con quei suoi bei sottocontatori a cratere e finalmente ho colto l'occasione per potermelo spupazzare un pochino, testare, portarlo a casa, vederlo, rigirarlo e studiarlo, a dire il vero la colorazione verde è abbastanza nuova, nel senso non è più di un anno che è in circolazione questa colorazione verde, l'avevo già parlato anche in una mia visita in negozio da Pasquale Domenici, che tra l'altro è colui che mi ha messo a disposizione l'orologio, la gioielleria Pasquale Domenici è partner ufficiale del canale e il buon Giacomo mi ha messo a disposizione l'orologio, se voi lo volete, volete sapere qualcosa di più, telefonate, li chiamate e vedrete che vi trattano con i guanti bianchi, come vedrete poi anche io ho i guanti bianchi, insomma questo cronoscopo qua è un gran bello orologio, tra cui bisogna anche subito mettere in chiaro che Jungars è passata dall'avere i vetri plexiglass o zaffero, si poteva scegliere su un modello quale avere, ad avere esclusivamente vetri zaffero, non lo so perché a me questa scelta non la comprendo al 100%, o meglio sì, però a me piacevano gli orologi Jungars con il vetro plexiglass, avevano un perché, anche costando un pochino meno, però capisco che si taglia la testa al toro, troppe referenze, troppe possibilità di scelta, vetro zaffero e non se ne parla più, quindi tutti gli orologi di Jungars ad oggi sono con il vetro zaffero. Detto questo vi mostro l'orologino del giorno che è questo simpaticissimo, orologi Calamai MC72, 39 mm di diametro cassa, calibro Sellit SV200 nella versione top grade, ossia super regolata, poi viene regolato ancora, controllato e regolato ancora una volta in più, quando viene assemblato in Italia dagli orologi di Calamai. Calamai Francesco, il patron del marchio, che ho visto recentemente la sbicchierata fatta prima di Natale per gli auguri, si è dimostrato, si è confermato una persona come si deve, una di quelle di altri tempi, come ne esistono poche, questo per dire che dietro ad un marchio ci deve essere anche qualcuno, qualcosa, una forma di una struttura, non la chiamiamo struttura, poi ci sono le persone che fanno la struttura, quindi delle persone valide, che meritino la nostra stima. Ecco, Francesco Calamai è uno di quelli che merita la nostra stima. Incondizionatamente, vedrete che chiunque lo conosce può confermare le mie parole, non è piageria. Detto questo, giriamo la camera, passiamo alla panoramica sullo Jungans MyStar Chronoscope. E poi ci vediamo qui, come al solito, per le mie considerazioni personali. Fidarsi delle specifiche è bene, ma misurarle da soli è meglio. Diametro cassa 40.5 mm, spessore 14.1, ingombro trasversale al polso 45.3 e interasseanza da 21 mm. Dimensioni contenute se relazionate ad un cronografo, ma soprattutto vi è la capacità di far sembrare sottile ciò che per natura è spesso. Jungans ha trovato il suo stile riconoscibile nel riuscire a rastremare lo spessore laterale in maniera da farlo apparire più contenuto. Il lato Carur scivola inesorabilmente verso il basso grazie ad una consistente inclinazione che viene poi ripresa anche dal fondello. Ciò permette di mascherare gran parte dello spessore e restituirci un orologio che al polso appare più sottile di quanto sia. Lo si vede chiaramente anche nel lato pulsanti, laddove l'inclinazione è delineata da una linea di stacco orizzontale che parte ben al di sopra della corona. Per il resto si tratta di un design riconducibile allo stile Bauhaus che fa del minimalismo il proprio segno identificativo e l'essenzialità quale elemento principale propedeutico alla funzionalità. Le ansie sono molto corte ed arcuate verso il basso, riducendo di molto l'ingombro trasversale al polso. Ci appaiono lucidate a specchio, così come tutta la cassa lo è. Una scelta che non poteva essere differente, stiamo parlando di un orologio che, seppur minimal, vuole essere elegante e quasi formale. Ci sono poi i pulsanti crono e la corona logata. Una differenza sostanziale rispetto ai max bill crono è che in questi ultimi i pulsanti sono a pompa, mentre qui hanno sagoma ovale. Questo deve essere uno di quegli elementi estetici da tenere in considerazione quando si vuole optare per l'uno o per l'altro. Per contro, come vedremo poi, c'è il discorso subcontatori che li differenzi ancora più marcatamente. Ma è anche la lunetta praticamente inesistente a determinare un altro punto cruciale dell'orologio. Una non lunetta. Infatti è praticamente inesistente e questo ci restituisce un orologio tutto quadrante, un altro segno distintivo degli Jungans che conosciamo. Questo non deve però intimorire chi ha un polso contenuto. Lo stile di questo brand è proprio quello di puntare a realizzare orologi nei quali l'acciaio percepito rappresenta una componente marginale rispetto al quadrante che diventa così il protagonista. E ne ha tutto il diritto in quanto, almeno per me, ha sempre rappresentato un elemento distintivo della serie Meister. Serie che è leggermente meno minimalista di quella Max Bill e lo si capisce già dai colori. Un verde scuro che, pur essendo sobrio ed elegante, riesce a dare un po' di brio e renderlo meno serioso. Così come è meno austero il salmone tenue che pigmenta le tre piccole sfere, in questo modo si ottiene un minimo di dinamismo ma soprattutto un'ottima leggibilità. Ma come detto precedentemente, sono i tre compacts a distinguerlo rispetto al Max Bill e questo perché appaiono come tre crateri incisi nel quadrante. Il bordo affilato, la discesa dolce e la differenza di profondità ci restituiscono tre sottocontatori in grado di caratterizzare fortemente il quadrante. Ho sempre apprezzato questa caratteristica e nonostante io preferisca i pulsanti a pompa del Max Bill, sono proprio questi subdias a farmi preferire e propendere per il Meister Chronoscope. C'è anche un altro dettaglio che li caratterizza, ossia la differenza di tonalità apparente. Non riesco a comprendere se si tratta di un colore differente o semplicemente una diversa resa a causa della profondità. Fatto sta che i tre compacts appaiono leggermente più chiari, specie in determinate angolazioni laterali e questo rende il tutto ancora più tridimensionale. Ma ci sono anche gli indici a dare un senso dinamico al quadrante, anche se solamente quelli ai quarti. Sono infatti in acciaio rodeato e ben in rilievo, cosa che solitamente non troviamo sulle altre collezioni della casa. Il tutto sormontato da un vetro zaffero a cupola che ben si addice ad un orologio privo di lunetta. Mi corre l'obbligo di segnalare che durante le riprese i riflessi perimetrici lo rendono poco fotogenico, ma vi assicuro che nell'utilizzo del polso la leggibilità è buona. Dico buona e non ottima perché le sfere Dauphin, classiche ed eleganti come poche, sono a finitura lucida e soffrono del classico problema di mimetizzazione con il quadrante. In pratica occorre un minimo di attenzione in più nel trovarle al colpo d'occhio e in soccorso ci viene quel piccolo quantitativo di superluminova presente, ci consente anche di poter apprezzare l'orario in assenza di luce, niente di particolarmente vistoso, un semplice tocco di luminescenza sufficiente al minimo sindacale ma pur sempre in linea con l'eleganza dell'oroggio. Non ho ancora parlato del calibro che muove questo cronografo, si tratta del J880.1, sigla interna che come al solito sta a significare qualcos'altro. Ora facendo una ricerca online sui maggiori portali del web viene indicato come essere un Vajou ETA 7750, anche la rinomata e attendibile testata monochrome riporta questa informazione. Avrei potuto prendere per buoni questi dati ma mi sono voluto assicurare di ciò, ho quindi preso una lenta e mi sono adoperato per cercare le diciture sulla platina. Si tratta di un Sellit SV500, cambia poco o nulla ma per amor di recensione ho voluto riportare la realtà dei fatti. Appare essere anche ben decorato e rifinito, pur sempre nei limiti dell'essere un calibro industriale di fornitura chiaramente. Piccola nota a margine, non apprezzo quella guarnizione bianca tra vetro e fondello, fortunatamente rimarrà nascosta al polso. Non rimane che parlare del centurino, in pelle di struzzo mette in risalto quei caratteristici nudi scuri che contraddistinguono la tipologia. Trovo che il colore sia indovinato, una tonalità beige che ben si addice allo stile più che al colore del quadrante. Molto morbido e di buona qualità costruttiva, vede il suo punto debole nel passo ansa da 21 mm, una misura nella quale si riduce il ventaglio di possibili alternative aftermarket. I cinturini da 21 esistono ma la scelta è di sicuro più ristretta. Possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali. Cosa aggiungere su questo simpatico orologio? Partiamo dai punti negativi che sono pochi, sono pochi pochi e anche abbastanza pretestuosi nel senso che possono essere smontati con facilità. Il datario in tedesco, questa non volevo ancora detta. Il datario è solamente in tedesco, non c'è verso di poterlo scegliere in altre lingue o solitamente quando uno vuole fare qualcosa di internazionale sceglie l'inglese e non se ne parla più, va bene per tutti i mercati. No, loro in tedesco. Questi tedeschi di Germania vogliono, me lo immagino io, l'omino che deve fare il datario. Cosa ci mettiamo data in francese, italiano, tetesco, tetesco, solo tetesco. Oh, lo vuoi, è così. Loro sono tedeschi, germanici, teutonici e fanno le cose fatte così, tedesco. Poi, come punto debole, insomma, anzi, si impara anche una lingua, no? Poi un altro punto debole, quella guarnizione bianca che è sul fondello, tra il vetro e il fondello in acciaio. È sul polso, non si vede, però quando te lo giri così da un'occhiatella al calcolo, vedi questa guarnizioncina bianca, ma si poteva fare meglio? Sì, va bene, un piccolo dettaglio. E poi un altro punto debole per me, questo è solo per me il verde. Non è che impazzisco tantissimo per i quadranti verdi, no? Anche se questo qua è un verde scuro, molto sobrio. Però io, se dovessi comprarlo, prenderei quello nero. Nero è proprio veramente sobrio, sobrissimo, tedesco in tutto e per tutto. Verde scuro così va bene. Poi, per l'amor del cielo, ognuno di noi ha i propri gusti. C'è gente che vuole gli orologi verdi, rossi, gialli, anche per cambiare in collezione, no? Quindi, va bene così. A me piace nero, però. Punti positivi, vabbè, lo stile, lo stile Junganz, il design, questa capacità di affinare la cassa con questa discesa che va sotto verso il fondello, è tanta roba, perché al polso sembra molto più sottile di quello che è, perché 13.9 è in linea con tutti gli altri cronografi che incassano 7750, se l'Itens V500, se hanno lì 14, anche 15 mm ho visto, no? Quindi questo qua è spesso, ma viene sfinato in maniera incredibile grazie a questo design. Poi il design in sé dell'orologio, questo stile Bauhaus, è senza tempo. Potrebbe essere un orologio di 20 anni fa, di oggi, come fra 20 anni, cioè è impossibile che qualcuno fra 20, 30 anni dici, no, questo qua è un orologio che è degli anni 20, si vede del 2020, no? Lo stile è sempre quello, è sempre quello, Bauhaus è intramontabile, no? Poi, cosa dire, il prezzo, non parlare dei prezzi, ma 2.100 euro, poi il buon Giacomo con lo sconto, andate sotto i 2.000 sicuramente, no? Un cronografo meccanico di qualità sotto i 2.000, è tanta robina a giorno d'oggi, con tutti i prezzi che girano 4, 3, 3, 5, boom, 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 qua si arriverà a 1.800, 1.900, stando leggeri, no? Sotto i 2.000, un bel cronografo tedesco, ecco, qui poi volevo fare un discorso un po' complicato che però non so se riesco a spiegarmi, a parità di prezzo con le case svizzere, no? In Svizzera la vita costa tantissimo, l'ho detto in qualche altro video, no? Quindi un orologio a 2.000 euro in Svizzera è niente, cioè è per i poveri, diciamo la verità, quindi non potete aspettarvi che a parità di prezzo anche in Germania sia lo stesso, nel senso a parità di prezzo in Germania la qualità dovrebbe essere migliore, secondo me, perché il costo della vita è inferiore, anche se è alto, è inferiore rispetto alla Svizzera, quindi a parità di costo si possono ottenere, che so, un bracciale fatto veramente in Germania piuttosto che un bracciale comprato in Asia, mi sono spiegato, a parità di costo, secondo me il Germania ha qualche, ha un valore aggiunto in più, spero di essermi riuscito a spiegare. Boh, mi sembra di aver detto tutto ragazzi, io vi ho messo sul piatto gli ingredientini, poi fate Vobis, no? Junganzo, con Junganzo non si sbaglia, qualsiasi pezzo si va a prendere, anche quelli più audaci, perché ora stanno andando un po' sull'audace, meno Bauhaus, più moderno, più contemporaneo, no? Cassenere, lucide, ma non si sbaglia mai con Junganzo, con quel suo bel museo terrazzato che c'hanno nella foresta nera, andate a studiare, ho fatto anche un video sulla storia di Junganzo, c'hanno questo museo terrazzato pieno di una vetrata, piani di vetrate dove c'è tutta la storia di Junganzo dagli anni che furono fino a oggi, la tradizione c'è, la qualità c'è, la tedeschità c'è, perché si vede, e quindi non si sbaglia, scegliete voi, fate Vobis. Vi ricordo gli appuntamenti fissi, che sono, come sempre, quando voglio io il più spesso possibile, qui su YouTube, Love. Grazie a tutti.